Cristiano sta molto bene, ayer ha entrenato individualmente, completamente recuperato, sta al top, come sempre, anche Iker, maggiore gioca. È un partito pericoloso, complicato, contro un equipe che non ha una buona raccia in questo momento, e per questo credo che abbiamo bisogno di essere guardati e di essere guardati con questo, per cercare di seguire questa raccia che è buona, che dà a noi confianza e entusiasmo a tutto il mondo madridista.